Si concluderà domani 24 e domenica 25 novembre l'esperienza del progetto Movimenti Periferici Danza Festival che si è tenuta nello spazio comunale in Piazza Forcella. A promuoverla è Gabriella Stazio di Movimento Danza, aggiudicataria di un bando per la valorizzazione delle periferie realizzato con il sostegno dell'assessorato alla cultura e turismo del comune. Movimenti Periferici Danza Festival è un progetto che viene portato avanti da Movimento Danza con il sostegno del bando SIAE Sillumina e del Ministero per i beni e attività culturali in accordo con l'assessorato alla cultura del comune di Napoli. È un progetto che ci ha tenuto impegnati per molti mesi e che ha visto la creazione di vari laboratori di danza inclusiva. In che senso inclusiva? Questi laboratori sono stati indirizzati non a danzatori o a professionisti o allievi di danza ma a persone di tutta l'età che volessero avvicinarsi al proprio corpo e a se stessi. L'iniziativa presentata questa mattina nello spazio comunale dedicato alla memoria di Annalisa Durante ha coinvolto circa 80 persone di diversa età e provenienza, i laboratori di Dance Ability, Teatro Danza e Danza Popolare tenuti da coreografi professionisti. Tre laboratori, uno di Teatro Danza, uno di Danza Popolare e uno di Dance Ability. Questo laboratorio di Dance Ability che mette insieme persone con diverse abilità. Al termine di questi laboratori, sabato e domenica, 24 e 25 novembre, in questo splendido spazio di Piazza Forcella che il Comune di Napoli ci ha gentilmente concesso, porteremo avanti la parte finale di questo percorso, appunto queste performance di danza. All'inizio poteva sembrare un'idea un po' stridente quella di portare la danza qui in questo luogo che tutti considerano complicato, in ogni caso impermeabile al cambiamento culturale e civile. Io invece credo che è stata una bella idea vedere la risposta e la partecipazione che stiamo avendo. L'idea quindi che abbiamo potuto verificare, di cui siamo profondamente convinti, che la bellezza porta a bellezza e attraverso la bellezza possiamo contrastare il degrado e dove arrivano le arti con la loro capacità di suscitare aggregazione, socialità, interesse, voglia di stare insieme, noi possiamo isolare i fenomeni degenerativi e più negativi.